Chi fa da sé fa per tre, anzi fa per molti di più. Qui siamo a Montesilvano, nella parte sud della città, siamo con Oriano Notarandrea che è presidente dell'associazione ILTI. In cosa consiste questa associazione? Si chiama intelligenza del territorio, coincide con Montesilvano Sud, vuole riportare il cittadino ad essere interessato al bene comune e quindi a ripartecipare anche alla vita politica. Effettivamente quello che abbiamo riscontrato è che c'è un isolamento, uno stato di assedio, ognuno è chiuso dentro i propri appartamenti e non si muove più. I cittadini ritornano attivi, si riappropriano del bene comune. Logicamente c'è una legge a Montesilvano che dà disponibilità di utilizzare, di riprendersi i giardini e così via e quindi riattivarsi. Vediamo qui che siete armati tutti di scopo e ramazze per rendere più pulita la vostra città e contate ben 400 aderenti. Guarda, i condomini che stanno qui si sono radunati appunto in un'associazione che è IT, intelligenza del territorio Montesilvano Sud. Massimo Forgione, lei è della zona sempre? Io sono venuto da un anno e mezzo che abito qui a Montesilvano e ho rincontrato un vecchio compagno di scuola che è Oriano, Oriano Notarandrea. E quindi mi sono entusiasmato all'idea che ha Oriano, cioè di coinvolgere comunque la gente, di farla uscire dalla passività di tutti i giorni. Gian Carmine di Gerolamo, cercate di pulire il territorio ma anche di aggregarvi. Perché l'aggregazione mi sembra una cosa fondamentale, cioè se le persone non si parlano, parlando ci si conosce e quindi si creano interessi comuni. Tipo, pulire anche un pezzetto di strada. Noi siamo partiti, io faccio parte del condominio La Mimosa, siamo partiti in sud dalla nostra casa. Quindi ci siamo primisialmente puliti i nostri spazi verdi. Poi tramite il nostro vulcanico presidente, il dottor Notarandrea, che ci ha coinvolti in questa bellissima avventura. E speriamo che questa avventura diventi sempre più importante.